ce ne sono due paia io e 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 ciao ragazzi bentrovati eccoci tornati per la seconda parte del video dove aprirò i vostri regali che in realtà come sapete già nel video precedente io ho già perduto però ve li faccio vedere e ve li mostro tutti nel video quindi oggi proseguiremo con il farvi ascoltare e vedere gli altri trigger spero stiate tutti bene ricordate di lasciarmi un like di condividere il video e di iscrivervi al canale e di lasciare anche un commento sotto ai video per supportarmi in maniera gratuita e farmi crescere con i miei contenuti buon rilassamento e buona seconda parte del video poi 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 questa palla squishy oggi ho il biglietto ho il biglietto da qualche parte della ragazza che me l'ha regalato però non trovo il biglietto ragazzi la ragazza che mi segue su tiktok ora purtroppo non mi viene il nome però grazie è Grazie a tutti. 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 Purtroppo non mi durano all'unghio, purtroppo non mi durano allungo, per le unghie probabilmente, tendo a bucarle. Grazie a tutti. E questa è la palla. Poi, passiamo al prossimo trigger. Il prossimo trigger è quello delle dita luminose. Ce ne sono due paia. Io sto utilizzando ancora solo ora ed è un visual trigger illusorio, magico. Molto bello che su TikTok mi ha colpita e ho deciso di metterlo nella mia wishlist Amazon. vi mostro subito, vi mostro subito, spegniamo le luci, le magie di queste dita. E' un po' di più. 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 no devo dire che sono buone queste dita luminose c'è l'una che mi aggola mi perfezionerò col tempo con queste dita ragazzi andiamo a vedere il prossimo trigger che è l'ultimo le dita luminose ricordo che me le ha regalate Eli questi invece me li ha regalati nevrotica nevroticamente si chiama così la ragazza mi le ha regalate di TikTok e sono i cucchiai i cucchiai per la zuppa fanno da ottimo visual trigger ora vi farò vedere perché allora ne prendo solo uno e ci farò anche un video dedicato e vi assaggio come foste la mia zuppa quotidiana è giù mi no Sì Prometo che vi porterò video più lunghi dedicati a questi trick Prometo che vi porterò video più lunghi rinnovo ancora i miei ringraziamenti per gli splendidi regali che mi avete inviato dalla mia wishlist grazie di cuore a tutti voi scusate se ho dimenticato il nome di qualcuno se anche voi volete farmi un regalo dalla mia wishlist la trovate qui in infobox nella descrizione dei miei video youtube trovate tutto ciò che vi serve grazie, 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 grazie di cuore per essere stati con me anche in questo video e ci rivediamo al prossimo ciao